Una solennità che dona speranza e fiducia in questo contesto storico complicato, sofferto, colmo di ingiustizie, marchiato dal disprezzo per la vita e dalla violenza che continuiamo a perpetrare sulla natura con scelte scellerate e catastrofiche. Così Monsignor Antonio Giuseppe Caiazzo, arcivescovo di Matera Irsina e vescovo di Tricarico, nella Cattedrale di Matera durante l'Omelia della celebrazione del Corpus Domini. Con la solennità del Corpus Domini il mistero ecoristico viene proposto per l'adorazione e la meditazione a tutto il popolo santo di Dio. Alla nostra Madonna della Bruna ci affidiamo e affidiamo la Chiesa che dobbiamo amare di più e servire in comunione col Papa, senza lasciarci coinvolgere da quanti l'avversano sfruttando punti di debolezza linguistici. A lei presentiamo la nostra Chiesa di Matera Irsina che l'accolta con entusiasmo, gioia e grande partecipazione di popolo nella comunità della Vicaria Mare durante la recente peregrinazio, accompagnata dal delegato episcopale Don Francesco Di Marzio e sostenuta dal parroco Don Angelo Gallitelli. Alla luce della peregrinazio di Maria la processione del Corpus Domini ci insegna che l'Eucaristia ci vuole liberare da ogni sconforto, realzandoci ci vuole far riprendere il cammino con la forza che Dio ci dà mediante Gesù Cristo. La processione per le strade della città, detto Monsignor Cagliazzo, indica che Cristo è risorto e cammina con noi e in mezzo a noi, facendoci percorrere la via verso il Regno dei Cieli.